Le pratiche per il rimborso dei danni subiti dal terremoto del 2009 sopra i 10.000 euro sono ad oggi ancora ferme, cosa accade? Sì, in pratica per legge sono andate all'UTR di Montorio, però purtroppo erano state ferme per 8-9 anni dal 2009, quindi ormai sono obsolete, hanno bisogno di essere integrate e quindi l'amministrazione di terremoto è riuscita anche a bloccare l'UTR di Montorio, perché la inattenzione, la non attenzione politica che c'è stata, le pratiche sono rimaste ferme per anni e anni e quindi solo adesso, solo grazie al nuovo ufficio del terremoto che è stato creato da meno di un anno e grazie all'ingegner Puritani che dobbiamo ringraziare ha cercato di rimettere insieme tutti i cocci e quindi mandare le pratiche a Montorio secondo il percorso di legge, però a Montorio sono ritrovate le pratiche vecchie, obsolete, con documenti mancanti, un po' perché sono mancate le leggi, un po' perché i documenti del tempo evidentemente sono andati persi, non si capisce bene, quindi i tecnici sono costretti ad integrare di nuovo le pratiche, quindi stiamo ancora fermi con 130 pratiche e 17 milioni di euro ferme che potevano essere in questi anni distribuite sul territorio terramano, quindi un'amministrazione delle gravi colpe sul discorso del terremoto. E questo è politico perché non sono nemmeno presentate le riunioni che organizzavano l'UTR per spiegare la situazione. Noi quei pochi rimborsi che abbiamo avuto sono grazie all'ingegner Puritani che dobbiamo ringraziare pubblicamente perché è riuscito a rimettere a posto tutto l'ufficio del terremoto in pochissimo tempo con un lavoro in mane.